9 luglio 2016, siamo verso il Colle dell'Is, Monte Rosa, qui c'è, stiamo andando al Colle per fare la Piramide Vixan, allora, lì c'è la Capanna degli Fetti e il Matoa, il Lago del Ghebè e qui c'è Sandro. Continuano la gita, ecco la Piramide Vixan, lì c'è il Corno Nero e il Balmero, allora lì c'è il Liscan orientale e il naso del Liscan. Qui abbiamo Sandro e adesso noi saliremo lì al Colle, andremo alle Piramide, poi torneremo giù, vedremo se andare il Balmero. A dopo, ecco il Corno Nero, continua la gita, ecco la Parrot, il Corno Nero, il Balmero, il Liscan orientale, il naso dell'Liscan e qui siamo sulla Piramide Vixan, 4.215, qui vediamo Sandro, in mia compagnia, allora lì al Lago di Ghebè, noi siamo partiti dalla punta Indreng, transitando il Matoa, l'Agnifetti e poi il Colle della Vixan, siamo arrivati qui in due ore dieci, con questa immagine, guardate voi bene, guardate questa immagine, pazzesche, un mondo indiscifrabile, non ci sono parole, ecco, adesso, guardami, mando i saluti, in compagnia di Sandro, su questa cima, perinamente il San, 4.215, in due ore dieci dalla punta Indreng, vediamo la Parrot, il Corno Nero, il Balmero e l'Iscan orientale, con questa immagine, dopo l'appuntamento, alla prossima. Continua la gita, dopo la Piramide Vixan, ecco il tracciato che porta qui al Balmero, Cristo delle Vette, eccolo lì, vediamo il Redentore qui, allora qui è Balmero, 4.167, lì c'è un signore che saluta, facciamo gli auguri, anche questo signore, allora, gita splendida, allora, al Balmero, allora adesso vedremo se dovremo ripassare al Corno Nero, caro Sandro, e con questa immagine, della Giulia, che saluta, Valeria, Francesco, Elena, è il Corno Nero in primo piano, vedremo sul da farsi, allora, giornata splendida, 9 luglio, 2016, in compagnia di Sandro, eccolo qua.